Ciao a tutti da Svideo, volevo dirvi che domenica 6 agosto in piazza Duomo a Milano si terrà un piccolo incontro fra youtuber vi invitiamo, io e il portale di Chris poi ci sarà AlceoFX, ci sarà Zaccheroni3 probabilmente ci saranno altri youtuber però dire quelli già sicuri, insomma comunque contate che ci sarò già io e il portale di Chris e questi ragazzi qui se qualcuno vuole venirci a incontrare perché ci conosce, perché apprezza i nostri video e che ne so, anche una stretta di mano salutarsi eccetera, chi vuole io mi troverò là in piazza Duomo intorno alle 10 e poi dopo aspetterò le varie persone e insomma, chi vuole venire partecipare a questa cosa simpatica è un po' per salutarci, per scambiarsi opinioni non solo su youtube ma in generale così per fare una bella giornata in compagnia chi vuole passare e niente e io volevo dire questo appunto perché io invito le persone chi vuole esserci ma per conoscere noi ma anche altri youtubers se vogliono aggregarsi per scambiarsi idee fra noi youtuber e altri youtubers che è sempre molto bello conoscersi a vicenda anche con altri nuovi youtubers sarà appunto una giornata per divertirsi in compagnia ma non immaginate cose sconvolgenti effetti speciali no niente ma è giusto un incontro fra youtubers fra persone che si stimano si apprezzano e chi vuole venire chi vuole fare parte della giornata ecco l'invito è rivolto anche a chi vuole venire e se poi viene qualcuno dei miei iscritti o degli iscritti del portale di Chris o dei iscritti di Alceo o di Zaccheroni insomma niente dai è una cosa bella per poter incontrarsi dal vivo eccetera eccetera bene ciao da Svideo grazie di avermi ascoltato domenica 6 agosto intorno a ore 10 piazza Duomo ciao